Non si è beati se non si è convertiti in grado di apprezzare i doni di Dio. Così Papa Francesco all'Angelo sta ripercorrendo il Vangelo delle Beatitudini, la Magna Carta del Nuovo Testamento. Beati, ha spiegato il Pontefice, vuol dire felici, ma per esserlo bisogna accogliere con fede il dono di Dio. Non è un meccanismo automatico, ma un cammino di vita al seguito del Signore, in cui il disagio e l'afflizione vengono visti in una nuova prospettiva. Che povero di spirito assume un atteggiamento di sobrietà nei confronti dei beni materiali senza appesantirsi nel lavoro a città e di lode nei confronti di Dio che ha generato il mondo con il suo amore. È docile anche alla sua signoria. Umiltà e carità sono poi le virtù essenziali per la convivenza nelle comunità cristiane, avendo sempre cuori e mani aperti, privilegiando la condivisione al possesso. Il povero in spirito è il cristiano che non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali. Non si ostina sulle proprie opinioni, ma ascolta con rispetto, si rimette volentieri alle decisioni altrui. Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri di spirito, ci sarebbero meno divisioni, contrasti e polemiche. Dopo l'Angelus, il Papa ha ricordato la giornata mondiale dei malati di Lebre, evidenziando le discriminazioni che genera e incoraggiando quanti sono impegnati nell'aiuto e nel reinserimento sociale di chi è colpito. Infine il lancio dei palloncini, simbolo di pace, da parte dei ragazzi dell'azione cattolica, giunti in piazza al termine della carovana della pace. Grazie a tutti.